Proseguite nel vostro impegno di promozione e sostegno a favore delle giovani generazioni affinché possano affrontare le sfide della vita, sempre animate da sensibilità evangelica e spirito di fede. È l'esortazione che Papa Francesco ha rivolto ai membri della Fondazione Giovanni Paolo II, rimarcando che formare la gioventù è un investimento per il futuro. Nel corso dell'udienza, il Pontefice ha poi ricordato con gioia la Giornata Mondiale della Gioventù in Polonia e ha indicato Suor Faustina Kowalska e San Giovanni Paolo II, di cui domani ricorre la memoria liturgica, come due eccellenti esempi di vita, veri apostoli della Divina Misericordia. L'anno giubilare che stiamo terminando ci ha spronati a riflettere e meditare sulla grandezza della Divina Misericordia in un tempo in cui l'uomo, a motivo dei progressi in vari campi della tecnica e della scienza, tende a sentirsi autosufficiente, come se fosse emancipato da ogni autorità superiore, credendo che tutto dipenda da Lui stesso. Come cristiani, invece, siamo consapevoli che tutto è dono di Dio e la vera ricchezza non è il denaro, che anzi può rendere schiavi, ma l'amore di Dio che ci fa liberi.